Buonasera, grazie a Lucrezia. Non mi si tiene il foglio naturalmente. Comunque, la cosa, allora, prima cosa, fantastico perché la luce è abbastanza forte e io non riesco a vedervi. Quindi questa è una cosa che mi consola perché non c'è nulla di peggio delle facce annoiate e sconvolte delle persone che sono obbligate ad ascoltarti. Una cosa drammatica, però il foglio non si tiene quindi lo tengo in mano. Chiariamo un'altra cosa subito. Questa qui si chiama a livello retorito captazio benevolenze. Cioè io sto qui, dico brutte cose su di me, sia effettivamente per evitare che qualcuno mi invidi, così non me gufate, inoltre per chiarire che le mie responsabilità sono scarse, a voi faccio pena, mi ascoltate, sorridete, ridete, sono contenta. Allora, le capacità retoriche di una persona scientificamente provato, non è assolutamente vero, però facciamo finta che sia così, come dire, si sviluppano entro i 18 anni. Quindi la persona responsabile delle mie capacità retoriche attualmente è la mia professoressa del liceo, filelfo, sono una filelfiana, Manila Meccarelli qua è presente, quindi se non vi piace quello che dico stasera, non vi piace il tono con cui lo dico, vi annoiate, andate a Manila Meccarelli e dici, mamma mia, certo, le scrittrici che escono fuori al tuo liceo veramente fanno schifo. Comunque, quante ne sono uscite fuori? Non penso tante, però, insomma, quando Lucrezia mi ha invitato a parlare, mi ha detto, dai, fa qualcosa su letteratura, e Dante l'avano già tirato fuori, altrimenti Dante lo tiri fuori sempre che fa comodo, no? Cioè, di cosa non ha parlato Dante? Però non sono una tantista, quindi, ho detto, meglio così. Quindi ho fatto la cosa che fanno tutti, ho cercato su Google. Citazioni, invidia, scrittori. Qualcosa uscirà fuori. No, ragazzi, non esce fuori niente di... Cioè, tutta roba di una banalità disarmante. Infatti ho preso Honoré de Balzac. L'invidia è una confessione di inferiorità. E tu dici, vabbè, ora, comunque stai facendo una cosa seria, non è che puoi andare su citazioni.org, digli quella e puoi scappar via. Devi un minimo dargli un contesto. Dov'è che Honoré de Balzac ha scritto questa cosa? Massime e pensieri di Napoleone. Questo qui è un libro che ha scritto Honoré de Balzac con tutte massime e pensieri di Napoleone. La maggior parte le ha inventate, altre le ha trovate su altri libri, eccetera, eccetera. Quindi, pensate, Napoleone, la persona che, diciamo, ha fondato il complesso di inferiorità, la persona a cui tutti quanti, quando c'è un politico basso che vuole conquistare il mondo, dicono, eh, complesso di Napoleone. Napoleone che dice, l'invidia è una confessione di inferiorità. Comunque, questa cosa che Napoleone era basso non era vera, eh. Cioè, se la sono inventata. Semplicemente lui piaceva avere la guardia che aveva con sé, che era una guardia d'elite, erano tutti quanti molto alti. Lui era tipo un metro e sessantotto. Quindi è tutto, 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 tutto falso. Questo qui per dire che gli scrittori non ammettono mai di essere invidiosi. Nessuno piace ammettere di essere invidioso. Non c'è niente peggio di ammettere di essere invidioso. Dei vizi capitali. Tu dici, pigro, sono pigro. È una cosa che puoi ammettere con tranquillità, no? Superbo. Lussurioso fa pure un po' gola. Cioè, sono cose che puoi dire con banalità. Ammettere di essere invidioso è una cosa drammatica che non fa nessuno. Anche perché tutto il potere negativo, tutta la forza negativa dell'invidia, nel momento in cui l'ammetti, scompare. Io posso dire, sono invidiosa di Lucrezia Ercoli perché parla molto meglio di me e la sua presentazione è stata migliore di quello che sto dicendo adesso. Nel momento in cui lo dì. Cioè, vedete che tutta la malevolenza che io potrei provare verso Lucrezia Ercoli scompare nel momento in cui, di fronte a voi, no? In maniera aperta, lo dico. Quindi è molto strana l'invidia. Quindi ho deciso di far una cosa carina, ovvero trovare tutti quanti gli scrittori più invidiosi e raccatarvi un po' di frasi cattive che si dicevano tra di loro e vedere per quale motivo se le dicevano, tra virgolette. Quella che dava il nome al mio intervento era quello non è scrivere e battere a macchina, che è una frase che dice Truman Capote, quello di colazione a Tiffany, su Jack Kerouac, che è quello sulla strada. Voi, non so se avete mai visto Truman Capote, ma è un den di anni 50. Queste persone hanno la stessa età circa, è tipo due anni di più addirittura a Kerouac. Ecco, cioè, guardatelo. Questa tipologia di persona qui, che è appena diventata abbastanza famosa, con colazione a Tiffany, stanno per farci un film, però il film arriverà tra qualche anno. Hanno comprato diritti ma ancora, e stanno calando le vendite, arriva Kerouac, che in poche parole è un coso in maniche di camicia, che fa parte di questa beat generation, gente che ascoltava jazz, si ammazzava di alcol, droga, eccetera, e lui addirittura diceva di aver scritto tutto quanto il libro, su un unico foglio lunghissimo, che aveva srotolato, tipo 120 piedi, che non so in metro, tutto quanto di seguito. E Capote, uno stilista, era sconvolto da questa cosa, era proprio, provava una rabbia senza fine, tanto che dice questa battuta. Naturalmente Capote rosicava un botto, per il fatto che, che Erwak avesse scritto tutto quanto, attaccato tutto questo romanzo, su un solo pezzo di carta, immaginate, mentre lui da stilista ci stava dietro. Poi c'è quell'altra bellissima frase, veramente, che è Virginia Woolf e James Joyce. La Woolf ha odiato Joyce con tutta se stessa. Ricordate che l'invidia è sempre all'interno di persone simili. Io difficilmente posso invidiare Fabio Camilletti, nonostante mi abbia rubato il tema più interessante, che è quello dell'invidia, nel senso di malocchio, che magari sarebbe stato per me un po' più gradevole da raccontare. Però siamo persone di età diverse, con lavori, con pose diverse, per cui non provo particolare l'invidia, mentre Lucrezia Ercoli, madonna, proprio ragazzi, una cosa, cioè, nel senso la guardo, proprio provo un odio infinito. Però vedete, ridete, quindi non mi percepite come invidiosa, perché pensate che sto scherzando, perché non si dice. La Woolf e James Joyce hanno la stessa età. Nasco nello stesso anno, muoio nello stesso anno. La Woolf si ammazza dopo Joyce, il che ci fa pensare. Nel momento in cui lei si trova a leggere l'Ulisse, va fuori di testa. Ci sono una quantità enorme di lettere in cui lei legge l'Ulisse e insulta l'Ulisse. E lo definisce l'opera di uno studente nauseabondo, schifoso, qui si dice, no? Quindi proprio qualcosa di nauseante, che si gratta i brufoli. Quindi immaginate, c'è questa scena di Joyce che scrive mentre con una mano si gratta i brufoli. Dà proprio l'idea. E l'Ulisse non è un libro che, come dire, se non vuoi leggere, leggi. È una quantità umana di pagine, è una cosa enorme. Io non l'ho mai letto tutto, lo dico senza problemi. Il fatto che lei ogni tanto ritornasse su quest'Ulisse, l'avesse finito e continuasse a parlare male di quest'Ulisse, fa capire che non c'era semplice disprezzo per Joyce, ma c'era proprio un'invidia profonda, un'invidia profonda che era data anche dalla sua condizione di donna in quel periodo. Tutto, una stanza tutta per sé, un libro che se non avete letto leggetelo perché soprattutto le donne in sala, soprattutto se ci sono studentesse in sala, dove la Woolf parla di due college, uno femminile, uno maschile, inventati, in quel di Oxford, Cambridge, non sappiamo, mischia le due città, e dove lei descrive lo sfarzo in cui vigevano i college maschili, come si mangiava bene principalmente i college maschili e come si mangiava male in quelli femminili. Ho scritto un intero libro femminista rosicando per la mensa, quindi capite il livello, e lei naturalmente rosicava perché comunque pur venendo da una famiglia altoborghese con grosse possibilità, eccetera, alcune cose per il suo tempo come donna le erano negate, cose che non erano negate invece a Joyce. Poi già abbiamo questa qui, ho preso, non è che ho preso le frasi, cioè ho fatto un discorso e poi ci ho messo, ho preso le frasi più belle perché ce ne sono alcune meravigliose. Mark Twain e Jane Austen, qui stiamo parlando invece di due pesi massimi però di periodi diversi, infatti Mark Twain diciamo abusa della Austen morta dicendo tutte le volte che leggo Orgoio e Pregiudizio ho voglia di disseppellirla e colpirla sul cranio con la sua stessa tibia. Io non ho mai provato niente del genere nei confronti di nessuno scrittore vivo e li conosco tutti, cioè nel senso di gente a cui prendo il caffè quindi l'odio è infinito. Tu figurati nel confronti di uno scrittore morto ma la domanda che ci dobbiamo fare piuttosto, Mark Twain tutte le volte che leggo Orgoio e Pregiudizio ma per quale motivo odi così tanto Orgoio e Pregiudizio e continui a leggerlo per provare questo moto di odio così forte evidentemente questo qui è un crociolarsi nell'invidia per la grandezza di Jane Austen se non avete letto Jane Austen leggetela pure qui. Professoressa Meccarelli ha fatto leggere Jane Austen? No perché facciamo solo letteratura italiana vero? Comunque dopo tutte queste cavolate ce ne sono tante altre c'è una roba tra Marquez e Vargas Iosa che è bellissima perché si sono presi a botte però non era proprio invidia perché c'era de mezzo la moglie di Vargas Iosa quindi l'ho un pochino messa fuori e c'era anche una cosa bellissima di Nabokov che in poche parole c'era tale Roman Jacobson che era un linguista del dipartimento di slavistica della Columbia mi sembra che a un certo punto propongono come professore ma come professore comunque potremmo di russa potremmo chiamare Nabokov lui sconvolto fa di tutto per di no Nabokov no è un cane e alla fine dice signori anche ammettendo che sia uno scrittore molto importante cosa facciamo poi? invitiamo un elefante a ricoprire la cattedra in zoologia? pure qui pesantezza eh questi qui però sono tutti quanti piccoli aneddoti che se io vi lasciassero adesso andate via col sorriso però non vi resta effettivamente niente io volevo ragionare sull'invidia anche sotto un altro punto di vista e lasciarvi gli ultimi cinque minuti giusto eh con parlandovi di un critico letterario antropologo relativamente famoso diciamo in accademia però non conosciuto da tutti che è René Girard René Girard ha scritto tantissimi libri principalmente sul contesto il concetto di sacro nel cristianesimo sul capro espiatorio ma per lungo su tantissimi libri ha parlato di una cosa che si chiama il desiderio triangolare c'è l'idea che nel momento in cui io provo un desiderio verso qualcosa questo desiderio è tipo una linea retta io voglio le scarpe Camilletti le bellissime scarpe della Lidl di Camilletti e questo desiderio vi sembra che sia dritto io voglio le scarpe e Girard ci dice ma non è così semplice tu non è che vuoi semplicemente le scarpe tu vuoi quelle scarpe perché sono di Camilletti effettivamente il fatto che le scarpe le porti Camilletti che è una persona di cui magari invidio desidero lo status sociale l'intelligenza la capacità retorica mi fa desiderare quelle scarpe perché penso che se ho quelle scarpe magari divento come Camilletti questa qui è una nozione che può sembrare banale ma non lo è affatto è anche se avete dei figli piccoli se avete due figli piccoli drammatico li mettete a giocare vedete che vogliono sempre lo stesso giocattolo contemporaneamente come uno prende la famosa teoria della pallina rossa bambino prende pallina rossa altro bambino desidera la pallina rossa anche se quella pallina rossa era stata totalmente ignorata quindi Girard dice che ci sono che il desiderio è triangolare che c'è un oggetto desiderato un soggetto un soggetto che desidera e un mediatore che provoca questo desiderio quindi la nostra invidia non è semplicemente il fatto che io vorrei avere le capacità retoriche di Lucrezia Ercoli ma il fatto che sarei molto più felice se Lucrezia Ercoli non avesse quelle capacità retoriche il mio desiderio non è tanto per l'oggetto è per Lucrezia Ercoli per non avere Lucrezia Ercoli come che tra un po' mi ci manda non avere Lucrezia Ercoli come competitor come eventuale rivale oppure avere la felicità che ha Lucrezia Ercoli perché sa parlare così bene questo che è un discorso complesso ragionateci che però fa la motore a tutta la letteratura e per letteratura non intendo gli scrittorini che si dicono cose dietro ma proprio alle storie cioè le storie partono con un desiderio il protagonista desidera qualcosa il protagonista desidera qualcosa perché l'ha visto da qualcuno perché qualcuno gli ha fatto credere in una maniera o nell'altra che questo desiderio è legittimo e lo porterà alla felicità Emma Bovary grande classico che desidera un certo stile di vita una modalità cioè vuole un certo romanticismo vuole i grandi balli vuole una vita sfavillante e l'ha scoperto nella maniera peggiore quella che ha rovinato tutti quanti noi i libri attraverso i libri lei scopre che c'è questo mondo se lei non avesse avuto come mediatore questi libri non lo avrebbe mai scoperto o banalmente parlando di letteratura italiana abbiamo la coscienza di Zeno dove Zeno desidera Ada perché desidera essere nella famiglia di Ada desidera essere figlio del padre di Ada desidera ha come arrivare guido cioè il suo desiderio per Ada per quella famiglia viene da altre persone non è direttamente lei tanto che infatti sposa la sorella sfigata pur di stare lì e io vi lascio chiedendovi di prendere questa cosa dentro di voi e applicarla alla realtà applicarla alla vostra realtà pensare perché io vorrei che questa invidia non è che ce la portiamo via col fatto che ci abbiamo avuto cinque giorni relativamente sfigati perché ha detto Lucrezia che la metà sono morti in maniera drammatica si è sfasciato di tutto metà penso degli ospiti ha avuto qualche disgrazia come diceva Camilletti che è una persona che studia queste cose lui ormai ha una specie di aura malefica attorno per cui non passa nulla io pure essendo mezza strolleca non passa più niente però ecco o inizia a prenderli tutti quanti selezionati oppure cambi tema però volevo che portaste a casa un tipo diverso di invidia un ragionamento più profondo sull'invidia che qualcosa che vi faccia ragionare sui vostri desideri e su perché li provate e su come questi desideri portano avanti le storie che alla fine sono anche la vostra vita grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti